Ciao e benvenuto a questo video. Oggi ti farò vedere una cosa che fa parte del mio modo di gestire la valutazione delle prove scritte. Allora, andremo a creare assieme un foglio di calcolo. Io lo faccio con i fogli di Google, ma si può fare allo stesso modo con Excel. Un foglio di calcolo, dicevo, per la valutazione delle prove, in particolare delle prove strutturate, ovvero di una prova con più domande, dove ogni domanda ha un peso diverso. Allora, immaginiamo di avere le domande che sono domande A, B e C. A, B e C. Mettiamo in tre. Tre colonne diverse. Allora, per rimpicciolire le colonne mantenendole uguali, seleziono le tre colonne, poi io modifico la dimensione solo della colonna D. In automatico tutte prendono la stessa proporzione. Allora, queste che sono le tre colonne, gli diamo un colore. È importante la presentazione. Perché dobbiamo inserirci dei valori. È importante riuscire a capire poi cosa dobbiamo inserire. Allora, nel tema, invece, mettiamo questi, va bene. Qua adesso mettiamo i bordi. Ok. Abbiamo i bordi. Dunque, qua adesso, abbiamo questi tre elementi. Mettiamo il grassetto, li mettiamo centrati. Ok. Ingrandiamo un attimo il font. Così. Boh. Le nostre tre domande. Perfetto. Qua sotto avrò gli studenti. Studenti. Avrò studente 1. Studente 2. 2. E studenti 3. Ok. Perfetto. Allora, qua io adesso inserisco le valutazioni. Le valutazioni che sono i punti presi in ogni domanda. Ad esempio, questo, immaginiamo che la prima domanda è da 11 punti, la seconda è da 8 e la terza è da 15. Ok. Allora, andiamo a vedere. Lo studente 1. Lo studente 1 cosa fa? Mettiamo che ha preso 8, 8, 8. Nelle tre domande. Ovviamente, visto il peso diverso delle tre domande, qua possiamo cambiare il colore. Per indicare che quella è una cosa diversa, alla fine il nostro peso. Lo mettiamo allineato al centro anche lui. Va bene. E cosa facciamo? Dunque, qua abbiamo che ogni punto contribuisce, diciamo, a fare la valutazione. Io posso fare due tipologie di valutazioni, sostanzialmente. Posso valutare le singole domande, per vedere se c'è la sufficienza nelle singole domande. Oppure fare una valutazione globale. Se vogliamo valutare, adesso vogliamo valutare ad esempio le tre domande. Innanzitutto separiamole. Questa è una buona politica, secondo me. Quindi io prendo, faccio una... Stringo la colonna e poi la riempio di un colore, che ne so, il nero. Così so bene che questa è una separazione tra due parti della mia tabella che non hanno niente a che vedere tra di loro. Qua rimetto abc, faccio il giochino di prima, voglio valutare le singole domande, se voglio. Se può essere interessante come ragionamento. Allora come faccio? Devo dire che questo è uguale a... Sarà quanto vale praticamente in percentuale 8 su 11. Quindi 8 diviso 11 diviso... Diviso cosa? Diviso B1. Attenzione perché B1, poi quando andrò a trascinare la formula qua sotto per avere i risultati di tutti gli studenti, B1 dovrà essere fissato. Quindi fissiamolo. Ok, B1. Poi vedete che ci sono un po' di decimali, eh? Cioè il modus ne vedano due, poi il terzo lo togliamo dopo. Questo sarà uguale a... C3 diviso C1. C1 fissato. Non si fa... Non fa la stessa cosa. Vabbè. Ok. Esatto. Poi abbiamo... Questo che sarà uguale a... D3 diviso D1. D1 sempre fissato. Perché è fissato D1? Adesso faccio dire subito. D1 è fissato perché... Allora... Se io prendo qua e poi trascino perché voglio fare le valutazioni degli altri due studenti, così questo diventa B4, che è questo, ok? Su B1. Quindi è fermo. Perché il peso è sempre quello, ovviamente. Se questo ha preso 777, questo ha preso 5... Ho fatto 555. Notate che questa parte fa schifo adesso. Oggettivamente sì. Cosa faccio? La seleziono solo le tabelle qua che... La parte qua dei numeri. E ho diminuire e aumentare le posizioni. Provo a diminuire. 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 Ok. Così solo con una. Ne mettiamo due. Sì. Se ne mettiamo due cosa faccio? Devo ingrandire l'ultima in modo tale da vederle. Hola. Adesso le vedo. Qua adesso un po' di macchiaggio. Metto 10. Metto 12. Metto centrato. Solite cose. Queste sono le percentuali di ogni singola domanda. Potrebbero servire per dare un rapporto a 10 tipo. Quindi se qua metto per 10. Qua metto per 10. Qua metto per 10. L'ipotesi in cui la mia sufficienza fosse al 60% della singola domanda. Riesco a capire che voti ho dato. Vabbè. È un'alternativa. Si può fare così. Solitamente però uno può considerare. Fare poi invece una considerazione globale. Dicendo. Sì. Ok. Questa è una separazione. Sicuramente. Lo mettiamo in nero. E via. Il voto globale quindi sarebbe uguale a la somma di 3. La somma di 3. Quindi somma. Tra questi 3. Diviso. Ma è giusto così. Fare la somma di 3 dividendola per... Questo è sbagliato. Perché non funziona così? Non funziona perché in realtà io sto dividendo... Come dire... È una media pesata. Non posso sommarli tutti e poi dividerli per il totale. Non ha molto senso. Attenzione. Non ha proprio molto senso direi. Allora. Perché se io faccio questo. Sum. La somma dei pesi. So che in questo caso ho fatto il 7. Il 70%. 70.05. Diciamo della cosa. Il 70.05. Che... Oddio. Non è molto diverso dalla media di queste 3. Però non è la stessa valore. Facciamo media... No, la mediana. Min. Average. Scusatemi. Average. Eccolo qua. Average. Di quali valori? Di questi 3. C'è la funzione usiamola. Vedete? A7.5.4. È naturale. Perché questo sto... Pesando questi 3. Qua invece faccio una somma di elementi però che appartengono a domande diverse. Non so. Questa è una scelta che uno può fare. Opinabile ma fattibile. Personalmente io opto di solito per dire... Ok, valuto le singole domande. Anche perché queste mi possono indicare poi le cose che sono da recuperare. E poi vado a fare una valutazione globale che è la media dei risultati nelle singole domande. Che è un po' più alta. Dopo di qui va fatta una considerazione globale magari. Eventualmente potrebbe essere che per il fatto che uno ha un'insufficienza potrebbe penalizzare un po'. Cioè prendere 3.7 è molto diverso da prendere un 7, un 10, un 5 diciamo. Anche se poi qua io dico ok nella domanda C però quella relativa a quell'argomento c'è roba da recuperare. Questo è un altro approccio. Diciamo che siamo abbastanza liberi. Questo ci dà un'idea su due risultati. Questo secondo me è un po' meno... Forse meno ragionevole, non lo so. Però è una media fatta sul totale. Cosa possiamo fare di questa cosa? Beh, ad esempio ci può dare un colpo d'occhio delle domande. Cioè se io trovo che nella domanda C ho tutti i risultati negativi Devo fare forse una domanda sulla domanda C. Come faccio a vedere la colpo d'occhio? Allora facciamo che selezioniamo tutti i valori. Dagli strumenti e dal formato scegliamo formattazione condizionale. E dico in quell'intervallo lì, ok. Un colore singolo no. Formato la cella se la cella contiene è minore di meno di se è meno di 6 Allora il colore è, che ne so, rosso e la scritta è bianca. Ricordatevi se scrivete il rosso vi prego usate il bianco per se non si capisce niente. Andiamo se c'è un rosso e c'è un rosso pallido. Ok. Noi vediamo che stranamente la colonna C ha tutti i rossi. Questo non va bene. questo ovviamente è la media dei risultati ottenuti io potrei dire sì, però voglio penalizzare leggermente nel caso in cui qua ci fosse almeno un rosso vabbè, a questo punto però il problema è che poi se sono troppi di rossi non è una penalizzazione esagerata io non lascerei così. questa è la media se la porto in giù ho le medie di tutti. Perfetto. Attenzione che se trascino questo succede un casino adesso guardate boom divisione per zero perché? Non ho fissato b1 di 1 da b1 di 1 questi tre valori vanno fissati. ok adesso se trascino funziona vedete che mediamente è 0 4 0 3 0 3 sì 0 3 più bassa più o meno poca roba è leggermente più stringente diciamo però la cosa interessante è che qua possiamo avere un'idea molto rapida ok del risultato dei nostri studenti cercando di capire anche le domande più problematiche quindi quelle su cui possiamo andare a lavorare successivamente questo è molto importante secondo me da qua poi potremmo andare anche a ricavare dei grafici magari dei grafici che ci danno i voti totali magari e qui potrei eventualmente dare già se io qua metto come formato diminuisco lui tronca così sì vedete se si sa 549 non si tende a 6 6 6 no no non tronca ma tronca al decimo quindi va bene questo ci può servire per capire per capire che voto dare indicativamente poi chiaramente va tenuto conto va data anche una valutazione un po' globale della prova quindi sono aspetti che magari è difficile mettere all'interno di una griglia di valutazione ricordatevi sempre secondo me di lasciare una io lascio sempre una casella bonus malus malus dove nel caso di errori malornali molto gravi posso andare a far segnare la cosa ma eventualmente mi tengo a volte una cartella di note delle note dove posso segnalarmi segnalarmi l'errore particolarmente grave da far notare allo studente in fase di correzione perché per me le correzioni esistono solo se fatte singolarmente cioè ogni studente viene e guarda la sua prova distribuire le prove e far la correzione alla lavagna non serve a niente vi assicuro bonus e malus ci servono perché io posso dare degli incentivi qualora lo studente magari prenda un voto alto però o magari su voto normale però adotto un processo risolutivo interessante e queste cose secondo me vanno premiate cioè premiamo i divergenti quelli che hanno un punto di vista diverso di vedere le cose non pensiamo che noi siamo i portatori della legge non siamo portatori proprio di niente assolutamente di nulla e qua tutto qua diciamo che così sostanzialmente abbiamo fatto la nostra la nostra bella tabella poi uno qua può sbizzarrirsi cercando di ampliare con tutte le cose che preferisce cercando anche di capire un po' questa è una pessima idea metterla metterla così ok dunque sì diciamo che così abbiamo un punto di vista abbastanza chiaro dopo di che da questo possiamo andare a formare la valutazione che decidiamo fare ecco questa è finita la regola perfetto non so con voi cosa quali sono i criteri se avete dei criteri diversi ovviamente in certe materie sì io in certi tipi di verifiche adotto una tecnica totalmente diversa ad esempio però questo è un esempio abbastanza semplice ed è possibile secondo me utilizzarlo e personalizzarlo totalmente perché uno può dire non so valuto che se è fatto in quel modo lì oltre ad essere giusto lo premio in più perché utilizzate magari un metodo particolare questa è una cosa buona quindi questo è ancora tutto là da lavorare questo potete personalizzarlo come volete dopo alla fine ci sarà ancora una colonna nera e poi qua ci sarà il voto quindi qua diciamo io di solito faccio un'altra cosa qui in realtà rimetto uguale a studente così questo è il letrascino questo è interessante perché altrimenti poi quando mi dicono ah ma quanto ho preso quanto ho preso qua ci sono spazi di minare un fastidio terribile ok e quando mi quanto ho preso quanto ho preso ok qui al netto di tutte qua poi uno decide come premiare cosa non premiare qua ci verrà che ne so un 7.5 7.5 scusate si arrabbia un sacco questa colonna queste due colonne le metto grandi sono grandi così almeno si vedono e vediamo se c'è la data ridimensiona colonne OP eh ridimensiona adatta i dati ok perfetto quindi allo studente e alla valutazione qua posso fare anche questa cosa per cui scelgo i tre valori e faccio una formatazione condizionale ok formato formazione condizionale posso ad usare una scala di valori che vanno dal rosso al dal rosso al verde o dal questo dal verde giallo rosso al contrario però valore minimo lo mettiamo rosso valore intermedio ma mettiamo anche magari un giallino si va bene e mettiamo il verde 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 forte a quello sopra in questo modo se lui ha preso 7 e mezzo ok questo diventa uguale che ne so a 6,5 e adesso vediamo perché è venuto così basso ah no questo è una minata guardate questo uno diceva non funziona così attenzione qua c'è questa regola della scala di colori clicchiamoci e guardiamo lui mi dice il valore minimo no non è il valore minimo il numero 2 magari o 3 2 3 scegliamo il minimo che vogliamo dare il percentile va a 50 e il massimo adesso vediamo se il 10 va a ok così il 2 il 5 ok vedete che in questo modo non c'è una grande una grande differenza però io potrei dire che che ne so i 4 li faccio il minimo si 4 può andare bene numero il 6 va in giallo e poi il 10 ma già già l'8 diciamo va in va in va in rosso così almeno abbiamo un'idea di cosa sta succedendo questo ce lo sta mischiando un po' potrei mettere bianco ok e vediamo un po' che i verdini sono quelli buoni ma non ottimi i verdi più carichi potremmo mettere un verde veramente fluo e un rosso fluo ok quindi vedo i voti buoni vedo i voti medi vedo i voti negativi questo mi consente a colpo d'occhio di capire chi è andato bene chi è andato male è una tecnica come un'altra diciamo alla fine per cui è un modo anche questo di avere poi un elemento diciamo che mi dà subito il polso della situazione che può essere utile quando vado a mostrare agli studenti la prova perché ho la valutazione ogni singola domanda posso dirgliela posso spiegargli perché nelle note posso essermi segnato cosa è successo cosa non andava bene se c'erano degli errori particolari da segnalare e questo secondo me è uno schema così è una bozza grossolana di schema che può essere utilizzato ovviamente uno poi potrebbe da qua andare a fare delle analisi statistiche sulle singole domande sui rendimenti dei singoli studenti ma non è il compito di questo video lo vedremo in un altro video eventualmente fatemi sapere commentando voi che tipo di griglie utilizzate se avete griglie diverse scrivetemi come le fate proveremo magari a farle assieme magari anche in una live e con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi vedo appuntamento al prossimo video ciao grazie a tutti